Anticipazioni Terra Amara, dove l'odio e la vendetta si intrecciano con segreti sepolti e tradimenti oscuri. Esploreremo il ritorno di Kolak, un potente signore deciso a riprendersi ciò che è suo a qualunque costo. Ma mentre il suo destino si scontra con quello di altri abitanti di questa terra intrisa di drammi, tradimenti e lotte per il potere, le tensioni raggiungono il punto di non ritorno. Un'avventura epica attende, con tradimenti, intrighi e segreti che cambieranno per sempre il destino di Cucurova. Preparati per un video emozionante, dove ogni scelta può cambiare il destino di tutti. Iniziamo. Nel cuore della notte, alla villa, il silenzio avvolge ogni angolo mentre il pubblico ministero contatta Zuleia per darle la notizia della tragica morte di Giulia, la sorella di Akan Musoglu. Profondamente sconvolta, Zuleia decide di recarsi a Izmir per partecipare al funerale della ragazza, sperando che Akan si presenti per poter finalmente confrontarlo faccia a faccia. Anche Fikret, presente nella villa, decide di accompagnare Zuleia, preoccupato all'idea di dover affrontare Akan durante il funerale. Nel mentre, mentre si prepara per la partenza, Zuleia tenta in vano di contattare Mehmet alla reception dell'hotel per informarlo della tragedia e della sua partecipazione al funerale. Akan, addolorato per la perdita della sorella, si rammarica per non poter essere presente al funerale, ma decide di assistere alla cerimonia da lontano, rimanendo nascosto dietro un albero. Dopo il funerale di Giulia, Zuleia si ritira nella sua camera d'albergo ad Izmir per riposare. Tuttavia, il suo riposo viene interrotto bruscamente quando un uomo incappucciato irrompe nella sua stanza, afferrandola improvvisamente. L'uomo misterioso rivela di essere Akan Gumusoglui, contrariamente alle aspettative di Zuleia, assicura di non volerle fare del male. Dichiarando che la sua vendetta contro la famiglia Yaman è terminata con la morte di sua sorella Ididemir, promette di risolvere le questioni rimaste nell'aldilà. Con fermezza, prima di lasciare la stanza, assicura a Zuleia che non c'è più motivo di temerlo. Liberatasi dall'agguato, Zuleia corre lungo il corridoio, dove incontra Fikret e gli racconta dell'incontro con Akan. Insieme, cercano di seguire Akan, ma arrivati alla reception, l'uomo è già fuggito via in macchina, scomparendo nel buio della notte. Nel cuore della notte, Akan si ritrova solo di fronte alla tomba appena scavata di sua sorella. Le lacrime solitarie solcano il suo volto mentre si china a pregare in silenzio, abbandonato alla propria pena. La confessione fatta a Zuleia riflette la cruda verità. Il suo desiderio di vendetta è svanito, lasciando dietro di sé un vuoto insopportabile. Nel silenzio dell'albergo, Fikret e Zuleia discutono animatamente della visita inaspettata di Akan. Zuleia è molto preoccupata, e pensa che nel modo in cui ha parlato di Demir, suggerisce che potrebbe non essere stato lui l'artefice della sua fine. Fikret annuisce, aggiungendo una nuova domanda cruciale, su chi può essere stato il vero responsabile della morte di suo fratello. Il giorno seguente, Zuleia e Fikret tornano alla villa proprio mentre le loro parole vengono imprestate in prima pagina sui giornali locali. Betul, leggendo le dichiarazioni di Zuleia, è sconvolta, ma questa volta essermina a incitarla, riaffermando la loro determinazione nel perseguire la giustizia fino alla fine. Intanto, ad Ismir, Akan si ritrova con una misteriosa donna che sembra essersi offerta di aiutarlo nella sua ricerca di vendetta contro Demir. Confidandogli i suoi tormenti, Akan si apre sul peso che il suo doppio ruolo di Mehmet Cara esercita su di lui. Soprattutto ora che è perdutamente innamorato di Zuleia e desidera sposarla con la sua vera identità. Tuttavia, la donna lo mette in guardia, insistendo che deve mantenere il suo vero se nascosto, poiché Zuleia è destinata a sposare Mehmet. Nel frattempo, un nuovo individuo fa ritorno alla libertà. Si tratta di Asme Kolak, un rinomato imprenditore locale il cui declino è iniziato quando Demir ha preso il controllo dell'azienda di suo padre. Convinto che gli Aman siano i veri artefici della sua rovina e della sua prigionia, Kolak brama vendetta con ogni fibra del suo essere. Questo nuovo personaggio ha trascorso gli ultimi vent'anni dietro le sbarre di una desolata cella. Dopo aver riacquistato la libertà e essere stato accolto con tutti gli onori dei suoi collaboratori, afferma, inizialmente ero stato condannato all'ergastolo. Poi la pena è stata ridotta a trent'anni e infine a venti. Adesso sono tornato, molti pensavano che non sarei sopravvissuto, ma eccomi qui. In questo momento è presente anche suo figlio Zan, che non ha ereditato il temperamento risoluto e distaccato del padre e non sa della presenza di questo nuovo pericolo. Gulten e Cetin si trovano dal ginecologo, pervasi dall'emozione, mentre per la prima volta avvertono il battito del cuore del loro bambino. Entrambi sono estremamente emozionati e si chiedono se sarà un maschio o una femmina. Nel frattempo, Gaffur sorprende sua moglie con una bella notizia. Dopo aver risparmiato un po' di soldi, è riuscito a comprare una casa dove potranno vivere insieme alla piccola Uzum. Li porta a vedere la loro futura dimora e sono tutti molto emozionati per questo traguardo. Sani è così felice che non esita ad abbracciare Gaffur, insieme alla loro bambina, osservano la casa convinti che finalmente la fortuna sia a loro favore. Più tardi, le donne dell'associazione, insieme a Zuleia e Luce, si riuniscono con il sindaco in un ristorante per discutere dell'organizzazione di una festa in programma in città. Durante la loro conversazione, arriva anche Kolak con suo figlio Zan. Il sindaco si alza per dare il benvenuto all'uomo. Kolak espone con freddezza il fatto di aver trascorso vent'anni dietro le sbarre, rivelando poi che Cucurova lo ha visto nascere e lo vedrà morire. Quando Zuleia e Luce apprendono il motivo del suo tempo in prigione, comprendono che la sua presenza in città potrebbe portare a nuovi guai. Purtroppo, queste preoccupazioni si dimostrano fondate quando Sermin e Betul li rompono nel ristorante per affrontare pubblicamente Zuleia, la cugina di Demir. Sermin urla, chiedendo spiegazioni sull'intervista rilasciata al giornale, mentre Betul accusa Zuleia di aver causato dolore alla sua famiglia. Zuleia, sconvolta, cerca di farle andare via, ma Sermin continua ad insistere, affermando di aver perso tutto a causa di lei, mentre Betul sostiene la madre, accusando Zuleia di frode aziendale. Mentre le donne discutono, il figlio di Kolak rivela al padre che Zuleia è oggetto di eventi spiacevoli ogni giorno. Furiosa, Zuleia mostra alle presenti le fatture falsificate da Betul, mettendo così le due donne di fronte alle prove delle loro azioni nefaste. Comunica loro anche che i suoi avvocati hanno avviato un'indagine e che presto saranno processate e condannate. Dopo averle umiliate, Zuleia chiede loro di andarsene. Sermin e Betul, in imbarazzo, cercano aiuto da Abdul Qadir, il quale suggerisce loro di trasferirsi a Istanbul. Tuttavia, Betul reagisce con rabbia contro Qadir, dichiarando con fermezza che non ha intenzione di abbandonare Kukurova e farà tutto il possibile per vendicarsi di Zuleia. Il giorno seguente, Kolak giunge con determinazione presso l'azienda Yaman, deciso a recuperare ciò che ritiene sia suo. Entra nell'ufficio senza il consenso di sabbia e richiede con arroganza a Zuleia che la terra intestata a suo nome da Demir quando era in prigione gli sia restituita immediatamente. L'arroganza di Kolak diventa così insostenibile che Zuleia, oltre a saper tenere testa all'uomo, lo caccia senza esitazione. In seguito, Betul ascolta una conversazione tra Qadir e suo fratello e scopre che Vaap conserva una copia del nastro modificato in cui Fikret appare mentre introduce sostanze illegali nei camion della compagnia Yaman. Vaap progetta di guadagnare la fiducia del fratello Abdul Qadir per realizzare il suo obiettivo di vendetta contro Fikret. Tuttavia, con l'intenzione di rubare il filmato incriminante, Betul torna a casa e persuade sua madre a fare le valigie per trascorrere qualche giorno ad Antalya, così da potersi concentrare sul suo piano. Nel frattempo, Zuleia e Mehmet fissano la data per il loro matrimonio, ma purtroppo tutto sta per subire un drastico cambiamento. Più tardi, Betul, ferita e tradita, è determinata a fare di tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Ritorna nell'officina ne, approfittando di un momento di distrazione, riesce ad accedere alla casa del vigneto insieme a Vaap, l'avvocato. Senza esitazione, mettono del sonnifero nel vino del fratello di Abdul Qadir al fine di ottenere il nastro che incriminerà Fikret. Successivamente, inviano il nastro alla procura insieme a una nota anonima. Tutto questo accade proprio mentre Mehmet e Zuleia sono impegnati nei preparativi per il loro matrimonio. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!